Siamo a Palagiano, presso il Palazzo di Città, con il Sindaco, l'Avvocato Domiziano Lasigna e cerchiamo un po' di fare il punto della situazione, il bilancio di questi ultimi mesi di attività. Noi ci siamo visti un po' prima, proprio per tracciare questo quadro, con l'avvento dell'estate. Ora l'estate è trascorsa con una ricchissima stagione estiva, ricca di eventi a livello di spettacolo, soprattutto a livello di cultura e ora si ritorna, ma in questi mesi comunque non ci sono stati solo eventi, ma l'attività amministrativa è andata avanti spedita. Ecco, Sindaco, facciamo un po' il bilancio di questa attività, diciamo ennucleando i punti fondamentali, le tappe di questo percorso amministrativo. Innanzitutto benvenuti, grazie come sempre di questa opportunità che concedete alla nostra città di fare un po' un punto della situazione con i nostri telespettatori, con i nostri ascoltatori. È stato un anno particolarmente complicato e questa ripartenza ha reso ancora più complicato il lavoro, perché abbiamo dovuto necessariamente, con molta attenzione, rispettare una serie di scadenze, di appuntamenti, subito dopo l'estate, è stata un'estate ricca come tu dicevi, proprio perché abbiamo voluto in qualche modo concederci uno spazio di condivisione nella pubblica piazza, infatti gli eventi sono stati prevalentemente concentrati proprio in piazza Vittorio Veneto. Dopodiché abbiamo iniziato a sostanziare una serie di appuntamenti e di scadenze necessarie per esempio per la ripartenza del mondo scuola, quindi mensa, quindi trasporto, quindi sistemazione, anche grazie a fondi Covid delle strutture scolastiche, prevalentemente i due istituti comprensivi, Rodari e Giovanni XXIII. Abbiamo quindi voluto far partire per esempio la sezione primavera quest'anno con una puntualità, o meglio con un anticipo mai verificatosi negli anni, proprio per concedere a tutta la comunità, nelle sue varie fasce sociali, le opportunità necessarie per ripartire, quindi avere il tempo, avere lo spazio, avere le possibilità e le opportunità necessarie per ricominciare una vita quanto più normale possibile, considerando la pandemia che ormai va, almeno stante i dati giunti negli ultimi giorni, va via via risolvendosi, anche se la guardia deve rimanere sempre alta perché le notizie che arrivano da altre città, ma soprattutto da altre nazioni, non ci rassicurano. Noi oggi a Palagiano contiamo da ultimo report solo due casi di positivi al Covid e resta un dato assolutamente confortante, ma ripeto, le informazioni che giungono non sono serene. Gli obiettivi posti in questa fase sono obiettivi prevalentemente dedicati al mondo scuola e tutto quello che è stato fatto in questi mesi, compreso per esempio il bando dei buoni spesa, i buoni alimentari, sempre fondi governativi, fondi Covid, sono stati proprio destinati alle famiglie che hanno bisogno, hanno dimostrato di avere bisogno di una vicinanza da parte dell'amministrazione e in questo caso abbiamo bandito ad esempio l'avviso per i buoni alimentari. Sindaco, ormai mancano circa otto mesi alla fine del mandato amministrativo, si tratta come dire di serrare le file e procedere appunto per perseguire altri obiettivi, per chiudere in grande diciamo col botto per così dire. Ecco, su quali percorsi appunto affronterete? Abbiamo visto parlando di percorsi, mi viene in mente ovviamente il riferimento ai lavori pubblici, tanti, ma vediamo un po' quali saranno gli obiettivi appunto di fine mandato. Sì, avevamo programmato e abbiamo programmato un quinquennio dedicato a step e a fasi, la prima parte del nostro mandato è stato dedicato essenzialmente al risanamento prevalentemente di natura contabile, economica del nostro ente e quindi tutte le attività poste in essere hanno avuto quell'obiettivo, risanare le economie comunali, le casse comunali per poter cominciare a ragionare di contrazione della spesa, di razionalizzazione delle entrate proporzionate alle uscite e questa è stata la seconda fase, la terza che ormai dura da un anno e mezzo, due anni, quella di mettere in cantiere tutto ciò che siamo riusciti ad ottenere prevalentemente come finanziamenti pubblici, diciamo così regionali, nazionali, europei e quindi questi ultimi mesi, questo ultimo anno è dedicato a quello che noi abbiamo chiamato un accordo di programma con la comunità, 5 punti, 5 opere fondamentali che avevamo programmato come ultimo anno perché sapevamo che gli anni precedenti sarebbero stati necessari per in qualche modo avviare tutte le procedure dal reperimento dei fondi alla loro destinazione e dunque innanzitutto il progetto di ricostruzione della scuola media su Corso Lenne, abbattimento e ricostruzione di due plessi, Rodari e ventitresimo delle scuole medie, appunto, con un progetto incredibilmente bello mi verrebbe da dire, affidato ad uno studio di architetti importante a livello nazionale che dedica i propri sforzi e il proprio lavoro alla nostra città con un progetto vinto attraverso appunto un bando pubblico, per cui riteniamo che entro fine anno si possano avviare le procedure poi di affidamento dei lavori veri e propri che dovranno poi eseguirsi negli anni a venire. Abbiamo poi il progetto importante per noi, fondamentale per la città di San Domenico, via San Domenico, via per Torre San Domenico, dove si realizzerà il primo tratto di questa pista ciclabile che noi immaginiamo possa attraversare tutta la città e arrivare sino all'extramurale con le due rotatorie. Il progetto del Palazzetto dello Sport, abbiamo concluso la fase di manifestazione pubblica, abbiamo ricevuto le proposte progettuali da parte di anche qui studi importanti, ci sono oltre 40 proposte progettuali, la Commissione sceglierà il progetto più opportuno e quindi si avvieranno i lavori per la Cittadella dello Sport, come l'abbiamo definito il progetto, come vorremmo chiamare l'area del Palazzetto. Abbiamo avviato le procedure di affidamento con una gara sia progettuale sia esecuzione dei lavori, quindi parliamo di un progetto di un affidamento integrato, la Fogna Bianca, un'opera importantissima di oltre 2 milioni e mezzo di valore che risolverà un problema ormai annoso e strutturale delle acque, la soluzione di problemi idrogeologici che riguardano una determinata area di Palagiano. E poi il progetto del cimitero che riguarderà innanzitutto la ristrutturazione del portale storico dell'ingresso con la costruzione della cappella, lavori affidati partono la prossima settimana e poi i lavori di costruzione dei nuovi colombari con chiaramente la vendita, perché noi abbiamo introitato il servizio di gestione degli immobili cimiteriali. Mentre fino a qualche anno fa questi beni erano gestiti e offerti da una società esterna, perché vi era stata una esternalizzazione sia degli immobili sia dei servizi cimiteriali, noi abbiamo voluto riportare alla gestione comunale questi beni perché ritenevamo che i costi di offerta di questi beni alla comunità fossero eccessivamente alti, giusti perché chiaramente chi arriva a fare impresa deve fare anche impresa, deve trarre profitto, però ritenevamo che sui beni cimiteriali occorresse rimodulare dei costi perché quantomeno la gestione dei servizi cimiteriali potesse essere più comoda per la comunità di Palagiano. Ecco, questi sono un po' i 5-6 punti essenziali che noi poniamo a base di quest'ultima fase, è chiaro che non tutti questi progetti potranno essere completati entro fine mandato, ma quello che conta è arrivare a giugno 2022 con un programma realizzato per il suo 90%, come diciamo, perché continuiamo a controllare che il programma elettorale sia realizzato nella sua completezza. Ultimo punto, fondamentale per questa amministrazione, per questa comunità, per questo momento storico, i lavori che stiamo svolgendo sul Pug. Riteniamo che il Pug debba essere offerto alla comunità di Palagiano, quantomeno con la sua adozione entro fine mandato e rilevo un grande spirito di collaborazione di tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, che stanno collaborando tutti insieme alla migliore riuscita di questo progetto perché riteniamo che queste condizioni storiche e politiche possano essere irripetibili e quindi vogliamo in qualche modo concludere questo percorso. Quando si amministra una città l'obiettivo è ovviamente coinvolgere la cittadinanza perché il sindaco è il massimo rappresentante appunto della collettività che amministra e quindi deve diventare come dire l'amplificatore di quelle che sono e il realizzatore di quelle che sono le istanze della base. Quindi un coinvolgimento della base nei vari provvedimenti, nei vari atti che si pongono in essere. Allora sindaco, in questi anni, ormai ci avviamo alla conclusione di questo quinquennio, quali sono stati quelle attività, quegli atti amministrativi che poi si traducono ovviamente in opere, in fatti come dire tangibili, che hanno visto davvero il coinvolgimento, la partecipazione della gente. Io ricordo così alcune piazze che sono state intitolate e che hanno appunto una valenza, un significato di socialità. Sì Luigi, io ritengo essenziale il fatto che il lavoro di un'amministrazione si compenetri con la partecipazione prima che con le esigenze di una comunità. Ogni attività amministrativa può essere partecipata, dipende dal livello che si voglia dare a questa partecipazione. Noi abbiamo fatto tantissime scelte, tantissime azioni in questi anni che hanno dimostrato la necessità di parlare con la gente, di confrontarsi con la gente, utilizzando tutti gli strumenti, dalla stanza che diventa luogo di accoglienza dei cittadini, ai social, alla piazza reale, l'incontro per le strade. Abbiamo voluto per esempio intitolare delle piazze ad alcuni nostri concittadini meritevoli di essere ricordati nella storia di Palagiano. Ricordo per esempio Piazzetta Taranto che diventa Piazzetta Don Peppino Maraglino, anche se il compianto Don Peppino non era cittadino palagianese ma massafrese, ma ha operato su Palagiano una vita intera, per cui non potevamo non riservargli uno spazio nella memoria storica della nostra città. E da dove viene fuori questa scelta? Dalla richiesta, dalla volontà, dal desiderio, dalla necessità espressa da alcuni concittadini che vivono prevalentemente in quella zona o che hanno vissuto l'esperienza pastorale nella parrocchia San Nicola. Ad esempio dedica l'intitolazione della piazzetta nuova costruita a Bachelet per un tenente di aviazione, Masella, che nessuno conosce e che certamente nessuno ricorda, ma che oggi diventa un nome, una storia, un volto da ricordare perché appunto quella piazza sarà, diventerà, o è già diventata perché c'è delibera di giunta, diventa piazzetta Masella. Ora, questo a cosa può servire? Può servire certamente a ricollegare, a riconnettere il tessuto sociale al tessuto territoriale. Cioè poter dire vivo una piazzetta che ha quel nome significa vivo innanzitutto una piazza nuova, un luogo di aggregazione sociale nuovo, bello, curato, mentre prima era assolutamente nel degrado più totale, basti pensare a piazzetta Pio XII, cos'era prima e cos'è oggi, basti pensare a piazzetta salvo d'acquisto, cos'era prima e cos'è oggi, ma poi serve anche a poter dire, a poter raccontare una storia, da qui l'idea delle piazzette narranti, quindi una sorta di passeggiata per il Paese a ricordare nomi, luoghi, volti, storie, racconti di chi ci ha preceduto. Ecco, Sindaco, in questa azione di partecipazione, mi permetto di dire, di cogestione del territorio, ovviamente nell'ambito delle competenze di ciascuno, è stato molto importante il coinvolgimento delle associazioni, il mondo del volontariato, il mondo dell'associazionismo che dialoga con le istituzioni. Palagiano vanta una rete associativa straordinaria, noi stessi veniamo da quel mondo, abbiamo agito nel mondo dell'associazionismo per anni e continua ad essere così, è chiaro che cambiano i punti di vista perché oggi, diciamo, in qualità di Sindaco, come rappresentante di un'amministrazione ci interfacciamo con le associazioni provando a dialogare partendo evidentemente da presupposti diversi. Ma, ad esempio, l'esperienza della consulta che ha lavorato con assoluta autonomia, come spesso peraltro mi è stato chiesto da parte della stessa consulta, oggi si rinnova ancora con nuove cariche istituzionali, direttive, che rappresentano ancora di più una sorta di collaborazione, di intesa tra il mondo associativo e il mondo amministrativo. Io dico sempre, gli amministratori passano, le scelte e i cittadini restano. Se i cittadini sono riuniti in reti associative, saranno ancora più forti, avranno ancora una voce più determinante perché, ripeto, il percorso è un percorso di condivisione per quanto sia il tempo di durata di un'amministrazione, poi le cose si iniziano, si costruiscono, si completano nel tempo. E quindi è fondamentale continuare ad avere questo dialogo con le reti associative indipendentemente dalle loro posizioni, anche dalle loro ideologie, perché fa parte di ogni essere umano avere evidentemente dei convincimenti anche politici.